Piani Federico, V2, la battaglia di Milano, categoria RX, CrossFit Corinthians 10, 9, 3, 2, 1, GO! Step 60, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 22, 23,! bisogna passare i 35 secondi un minuto si 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 un minuto e mezzo 110 fatti adesso prova 115 un minuto si 30 secondi ok mostrami i dischi allora due e mezzo non c'entra fallito per il 110 5 kg 5 kg aspetta vai 5 kg 10 kg 20 e il disco da 20 quale ti da? 20 10 5 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 6 6 6 6 6 6 6 7 5 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6